Torna assolutamente in primo piano, signori, il fatto importante del lavoro, quindi del salario minimo, che a livello politico viene discusso dalla Shlane con Giorgia Meloni per cercare di trovare il solito punto d'incontro. Sono state infatti nel frattempo chiesti la soia legale di 9 euro l'ora, chiesto ovviamente sempre dalle opposizioni. Ma sono quelle di ora delle prove tecniche di dialogo. Su questo salario minimo il governo e opposizione iniziano almeno, perlomeno, a parlarne. Agli atti c'è il net fermo, apparentemente inamovibile, del centrodestra alla soia legale famosa delle 9 ore l'ora, che è chiesta appunto dalle opposizioni, confermato nel frattempo dall'emendamento soppressivo presentato dal governo in commissione lavoro alla Camera. Dietro le quinte però qualcosa inizia a muoversi. Giorgia Meloni potrebbe essere pronta a sedersi al tavolo e discuterne. E una convinzione maturata negli ultimi giorni. Ad aprire uno spiraglio fra gli altri l'appello del leader di azione Carlo Calenda che ha chiesto alla Premier di incontrare le opposizioni e ascoltare le proposte in merito. Aperture tutte da verificare. In maggioranza e in particolare in Fratelli d'Italia l'idea di un salario minimo garantito per legge è fumo negli occhi. Sono bastate però le indiscrezioni di un cambio di prospettiva della Premier a smorzare le polemiche. Sono felice che ci sia un'apertura da parte del governo a discutere di salario minimo. Sospendiamo le polemiche e proviamo a fare insieme qualcosa di utile per l'Italia. Cinguetta Calenda. Perfino la segretaria del PD Lischlein sembra apprezzare l'apertura di Meloni, finora affidata a retroscena indiscrezioni stampa. Sono felice di leggere che ci sarebbe un'apertura della Presidente del Consiglio a un confronto nel merito, ha chiusato oggi la Liderdem, dicendosi pronta a incontrare la Presidente del Consiglio anche domattina. Bene il dialogo, dice Schlein, a patto però che la maggioranza ritiri l'emendamento soppressivo. Insomma, i presupposti per parlarsi ci sono. E c'è chi non esclude che Meloni possa decidere di incontrare le opposizioni sul tema già nei prossimi giorni, anche se l'agenda non rende la cosa semplice tra conferenze, appuntamenti delicati in Parlamento come la mozione di sfiducia contro Daniela Santanchè presentata dai 5 Stelle ai voti mercoledì e dunque il primo viaggio negli Stati Uniti da giovedì. Le distanze però restano. Ne dalla maggioranza in Parlamento piovono in queste ore ramoscelli d'ulivo verso le opposizioni compatte, una volta tanto, dietro la battaglia del salario minimo. Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, spiega alla press che le opposizioni dovrebbero rinviare l'esame della loro proposta a settembre. Due mesi necessari, dice, per un ragionamento più ampio su salari e lavoro. Altrimenti, è il messaggio velato, ma neanche troppo, il muro contro muro porterà, prima della pausa estiva, al voto sull'emendamento soppressivo della maggioranza. E allora addio salario minimo. Più che aperta, la porta del governo sembra socchiusa. Del resto chi parla con Meloni rimane convinto della netta contrarietà della Premier verso una misura ritenuta rischiosa perché potrebbe riallineare a ribasso gli stipendi. La via maestra a detta del governo è invece intervenire sul taglio strutturale del cuneo fiscale per aumentare i salari. E è questa l'alternativa difesa a spada tratta in aula dal ministro nello Musumeci in una ringa contro il salario minimo che ha scatenato il putiferio tra i banchi della minoranza. Meloni non chiude, non del tutto almeno, rimane laica, copyright suo, di fronte agli appelli bipartisan dalle opposizioni. Da qui a un'inversione di marcia del governo di strada ne passa. In questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.